Ciao, scuserete un pochino l'emozione perché sono molto emozionata. Sono qui per fare una confessione, diciamo proprio che faccio outing. Io sono una slash worker e qualcuno di voi sa cosa significa essere slash worker? Qualcuno è uno slash worker? Vedo qualche mano alzata. Per chi non lo sapesse, slash worker, questa è la definizione che io ho trovato il 7 febbraio 2018, quindi non tanto tempo fa, data da Acta in un articolo, Acta all'Associazione dei Freelance, lo slash worker è un professionista che fa più lavori contemporaneamente, che non si definisce con una sola professionalità, ma con più professionalità separate da uno slash. e quindi io mi sono riconosciuta e neanche tanto tempo fa, perché se mi aveste chiesto prima di questa data che cosa facevo, sì, vi avrei detto ho un primo lavoro e dopo ve lo racconterò, ma vi avrei detto che io avevo questo, un lavoro Bancomat, un secondo lavoro che ho scelto di fare per fare cassa. Non so se anche voi nella vostra esperienza, io sono una giovane freelance e dopo vi racconterò qualcosa di più della mia storia, non so se nella vostra esperienza anche voi avete accettato lavori che magari non erano in linea con quello che volevate fare, con quello che erano i vostri desideri. Mi è capitato di parlare con una wedding planner e anche lei mi ha detto sì, io faccio matrimoni Bancomat, matrimoni che magari non erano esattamente quello che lei cercava, ma che comunque faceva, perché in qualche modo la pagnotta ce la dobbiamo portare tutti quanti a casa. L'articolo di Acta mi ha aperto un mondo e da lì ho iniziato a fare un po' di ricerca e mi sono sentita meno sola. Intanto gli Stati Uniti si sono mossi un pochettino prima di noi a cercare dei numeri e una ricerca di Endco, che è una start-up di New York, aveva già trovato che di 300 freelance coinvolti in una ricerca solo il 5% dichiarava di avere un'unica attività, il restante 95% ha dichiarato di avere due, tre, quattro o addirittura più di quattro lavori. E poi siamo arrivati noi, con una ricerca europea che ha coinvolto 2000 freelance in Europa, in otto paesi, e che in Italia è stata seguita da Acta. La ricerca è questa che leggete e qui vedete i numeri della situazione italiana. Anche fra di noi solo il 20% dei freelance dichiara di fare un unico lavoro, un'unica attività. Tutti gli altri ne fanno più di una. Questa sono io. Io sono una professional organizer. Faccio la professional organizer. Ho, diciamo, studiato un po' di tecniche di organizzazione, di produttività, quelle di cui ci ha parlato Giussi. Purtroppo non ho lavorato con Barack Obama perché io lavoro con i freelance. Mi rivolgo soprattutto ai liberi professionisti e mi ci metto dentro anch'io perché penso che siamo una categoria un pochettino più incasinata rispetto alla media. Poi però mi è capitato, ormai due anni fa, di incontrare nel mio percorso un'azienda che si occupa di formazione. Formazione in modo speciale perché lo fa con il teatro d'impresa, con una metodologia molto particolare. E mi è stato chiesto di collaborare con loro, sempre come freelance, quindi non come dipendente, ma di aiutarli nella gestione di questi progetti di formazione. E per loro sono project manager, quindi seguo clienti, seguo progetti di formazione. Mi occupo ovviamente degli aspetti organizzativi. E poi, quella che vedete nella terza foto, sono sempre io con i miei bambini perché sono una maestra di pattinaggio artistico a rotelle. Che non lo so se chiamarlo lavoro, in effetti ci passo tante ore, ma è la mia passione. Ho messo i pattini a rotelle a tre anni e tuttora sono atleta e allenatrice. Voi mi chiederete perché una persona decide consapevolmente di intraprendere questo percorso. Io ho fatto un passo indietro e ho pensato alla mia storia e credo che il motivo fosse questo. La paura. La paura all'inizio. Come vi dicevo, sono una freelance giovane. Io ho iniziato a studiare per una mia passione gli aspetti organizzativi della gestione del tempo, della produttività, già nel 2013. Poi ho avuto un periodo da dipendente e poi ho deciso a un certo punto, grazie anche al freelance camp, perché ho partecipato a tante edizioni, di fare il passo, di aprire partita IVA e di diventare professional organizer. Quindi il lavoro che vorrei fare da grande. Però i primi mesi sono, almeno nel mio caso, sono stati un po' difficili, perché ho scelto anche un percorso un po' strano, una professione un po' particolare. E la paura, quella magari di non arrivare a fine mese, quella di non avere effettivamente i soldi, il tempo e le energie da investire solo nella mia attività e comunque vivere l'affitto e solite spese. Quindi io credo che il mio percorso sia partito da qui. E ha portato a una serie di difficoltà, non le nego. Infatti sono venuta qui per fare proprio una confessione. Ecco quelli che secondo me sono i drammi quotidiani di una slash worker. La frase non ho tempo non è più una scusa, perché chi lavora part time in due attività e poi ci aggiunge anche un pochettino di allenamenti di pattinaggio, il tempo, le 24 ore sono quelle, a me non ne sono state regalate di più. Quindi devo imparare a gestirmele. Poi sono un po' più organizzata e quindi poi, vabbè, vi raccontrò. Energia e concentrazione sono un aspetto molto importante e un po' difficile da mantenere nel momento in cui mi sposto da un'attività all'altra. Il tragitto casa-lavoro. Come professional organizer lavoro da casa, oppure lavoro dai miei clienti se faccio delle consulenze, ma principalmente lavoro da casa. Mentre come project manager vado in ufficio, quindi lavoro con dei colleghi, lavoro in una realtà strutturata, più tipica del lavoro dipendente, anche se sono libera professionista. Poi però questa l'ho risolta facile e ringrazio Giorgio Minguzzi, perché l'ho ottimizzata così. Ho scoperto il mondo dei podcast e quindi io uso il tragitto casa-lavoro per studiare, per aggiornarmi e anche per ascoltare cose piacevoli, oltre che ci vado a piedi e quindi faccio anche un po' di moto. E poi le distrazioni. Come giustamente diceva Giusi, le distrazioni sono una delle cose che ci dirottano nella nostra produttività e quando sei una slash worker ne hai di diverso tipo. Quelle dei clienti, l'abbiamo visto anche stamattina, io faccio un po' fatica a spiegare ai clienti sia quelli miei da PO che quelli dell'azienda con cui collaboro che io non solo faccio un lavoro part-time, ma faccio un lavoro part-time variabile. Alcuni giorni faccio la mattina, altri giorni pomeriggio, altri giorni la giornata intera, altri giorni mi dedico solo a un lavoro, altri giorni solo all'altro. E quindi in questo caso, anch'io ai clienti rispondo sempre al telefono. E poi ci sono loro, fantastici, i colleghi, che pensano che quando non sei in ufficio, quindi stai in vacanza. Quando tu esci dall'ufficio, in realtà stai uscendo, io il venerdì che lavoro solo al mio primo lavoro, no, io sono già in vacanza, io faccio i weekend lunghi. Ma non per cattiverie in realtà, perché è proprio un po' difficile da comprendere come situazione se non ci sei dentro. Ed è stato proprio in uno di questi giorni un po' difficili, in cui mi sono trovata un po' in difficoltà, effettivamente, a gestire tutte queste cose, che proprio una mia collega del secondo lavoro mi ha aiutato e mi ha dato anche un'idea per raccontare la mia storia. Questo era il sunto dei drammi. e le stavo parlando appunto di sì, vivere due vite, insomma, è un po' complicato, no, ma ce la posso fare, so che cosa voglio dalla vita, so quali sono i miei obiettivi, però caspita che fatica, e lei mi ha detto no, ma io oggi ho letto una cosa che è tua, te la giro e ve la leggo, perché questa è la foto che mi ha mandato su WhatsApp. mi ha mandato questo testo che descrive l'origine dell'ideogramma giapponese della parola indaffarato e recita così. L'ideogramma giapponese che indica indaffarato è composto da due elementi, perdere e cuore. Ciò significa che quando ci lasciamo sviare dagli impegni quotidiani possiamo facilmente perdere di vista le cose essenziali. Proprio in quel momento dovremmo chiederci qual è il senso dei nostri sforzi. E allora io, scusate, di nuovo mi sono chiesta perché. Io ho scelto di fare in questo momento del mio percorso professionale questa doppia vita. Non è che me l'hanno imposto, ho proprio detto di sì io. E mi sono un po' interrogata invece su quanto ci sono degli aspetti positivi, delle cose che mi piacciono, delle cose che mi fanno stare bene in questa doppia vita e sono quelle che volevo condividere con voi. Intanto la sicurezza. Chiamateli se volete soldi. Perché in qualche modo quella che è la paura del non avere la fattura pagata a fine mese io in questa fase di inizio un po' ce l'ho. Poi è chiaro che non è tutto però è un po' un po' un aiuto che i primi anni secondo me non è male. Il tempo era anche un contro. cioè io lavoro part time di qua e di là e quindi è sicuramente un contro ma la giro in un'altra ottica. Il fatto di io sono ai primi anni e quindi sto studiando mi sto perfezionando sto cercando di definire quella che è la mia professionalità del lavoro che vorrei fare da grande che è la professional organizer. Avere alle mie spalle un'azienda in cui sto tra l'altro molto bene che mi supporta in questa fase mia di sviluppo mi dà tempo per studiare io posso crescere portare avanti la mia attività senza dover avere quell'ansia che se non fatturo entro la fine del mese non ho i soldi per portare a casa la pagnotta. Quindi in questo intendo tempo. La pausa la caffè in compagnia anche stamattina l'abbiamo visto nello speech di Giuliana giusto? L'abbiamo visto e io come professional organizer lavoro da sola e un po' mi manca la compagnia. In ufficio ho dei colleghi fantastici e alle 11 quando lavoro in centro a Bologna scatta la campana noi ci fermiamo ci si prende il caffè insieme e ogni tanto arriva anche un po' di mortadella è un po' di crescenta così perché alla festa della donna uno dei titolari ci ha portato la mortadella perché le mimose non andavano più di modo che apprezzata il networking io conosco il doppio delle persone perché partecipo ad eventi in questo caso io lo considero del mio lavoro 1 e quindi conosco tante belle persone bravi professionisti come voi ma anche partecipo ad eventi del lavoro 2 e anche ad eventi del lavoro 3 perché vado a legare e ho tutte le mie cose del pattinaggio quindi conosco molte persone e questo mi piace e credo che possa essere un valore aggiunto dell'essere una slash worker imparo imparo moltissimo soprattutto perché quello che faccio pur essendoci dei punti di contatto faccio un lavoro diverso dal mio io mi occupo di organizzazione è vero però sto a fianco a dei professionisti della formazione bravissimi e io cerco come una spugna di imparare da loro più che posso poi col public speaking ci possiamo lavorare perché sono formatori anche di public speaking e io comunque sono ancora molto agitata ma imparerò sempre di più da loro e poi c'è questo io vado in ferie quando voglio sono comunque libera professionista e quello che è successo è stato proprio questo qualche settimana fa sono stata via una settimana sono andata in ferie una settimana e sono andata in ufficio dicendo al titolare guarda io mi prenderei una settimana di ferie ad aprile questo qualche mese fa per organizzare il lavoro interno e mi è stato risposto vabbè ma certo ma tu non lo devi neanche chiedere e al che ho detto beh sì è vero ottimo però poi cos'è successo questo che io in vacanza un po' di lavoro me lo sono portato ma la cosa bella è che non mi sono portata un lavoro a caso quello che vedete è il quaderno in cui io ho scritto questo speech i primi appunti che ho preso pensando a quello che vi avrei raccontato oggi quindi io in vacanza ho deciso di portarmi il lavoro che mi piace il lavoro che mi fa star bene e se oggi dovessi scrivere il mio diario la mia settimana della gratitudine che abbiamo visto con Giussi io di una cosa sono grata sicuramente quella di aver conosciuto a suo tempo sono una fan del freelance camp per questo che sono anche così emozionata oggi a parlare di aver conosciuto questo evento mi emoziono ho conosciuto Silvia lo sa ho conosciuto questo evento scusate un po' di tempo fa quando ancora ero dipendente quindi in tempi non sospetti e quando ho capito tramite professionisti bravissimi che cosa voleva dire essere freelance ho detto basta io faccio la freelance e quindi anche se ogni tanto ci sono delle difficoltà perché ci sono all'inizio è comunque sempre una scelta quella che facciamo della nostra professione quindi grazie grazie ma ci mancherebbe non vogliamo responsabilità no no scusate